La migrazione nel Mediterraneo E' stato un discorso molto serio, fatto a livello scientifico, proiettato nella dimensione politica e poi anche confrontato con le esperienze quotidiane della Caritas e delle altre organizzazioni che lavorano nel settore Quindi si parla ancora di integrazione? Sì, si usa molto il termine integrazione indubbiamente anche se con piacere ho sentito termini nuovi come mescolanza che è un termine forse infelice ma che comincia a fare un passo in avanti rispetto al discorso dell'integrazione Perché spesso integrazione significa anche inserimento, significa anche prevalenza delle culture forti e delle economie forti sulle culture deboli e le economie deboli Sinceramente e come gruppo, come associazione noi preferiamo il termine fecondazione che non è un termine molto alla moda, che non è un termine molto usato ma che secondo noi esprime il concetto L'incontro tra le culture avviene attraverso una fecondazione reciproca che produce una nuova cultura così come è venuta nei secoli, così come è venuta nei millenni e non dobbiamo assolutamente spaventarci di fronte a queste situazioni I temi che state trattando quali sono? I temi sono quelli che riguardano le migrazioni, la mobilità umana nello spazio del Mediterraneo e abbiamo la fortuna ogni anno di fare delle riflessioni e dei confronti con i colleghi che vengono da tutta quest'area Abbiamo rappresentanti che vanno dal Marocco fino al Libano, passando per la Turchia, la Grecia ma anche quest'anno del nord Europa abbiamo avuto colleghi tra Svezia e l'Ucraina Quindi una ricchezza di esperienze e di competenze che una volta l'anno trova un momento di sintesi in questi incontri internazionali Sono stati anni passati a Trapani, a Caglia, insomma in luoghi per certi versi simbolici rispetto al tema dell'immigrazione Otrano non poteva mancare nella lista, è certamente un luogo che ha espresso competenze, capacità e soprattutto tanta attenzione al destino di persone che cercano miglior fortuna nel nostro paese Quindi la cultura internazionale mondiale non può esimersi dal confronto e perché no? Fare famiglia Sì, questo è un po' lo spirito che anima Migramed, il confronto che per noi è il punto di partenza per qualsiasi attività che come rete Caritas poi garantiamo sui territori in tutto il mondo L'ha detto la collega di Caritas Internationales questa mattina, noi siamo presenti in più di 160 paesi e in ognuno di questi paesi cerchiamo di dare il meglio Però evidentemente abbiamo bisogno periodicamente e costantemente di confrontarci per conoscere le buone prassi, per avere il conforto e sostegno laddove i paesi a volte anche con la Caritas presente Non riescono a far fronte ad emergenza o altre questioni che comunque sollecitano i territori, per cui la rete è il punto di partenza per noi Poi chiaramente il nostro auspicio è di crescere sempre di più insieme e evidentemente con momenti come questo che sono di lavoro ma anche momenti di gioia Perché con una grande famiglia ci incontriamo e ci scambiamo informazioni e anche momenti informali belli come rete Caritas Crifio, Mediterraneo, il vostro inno alla musica, alla pace e al Salento Oggi siamo stati invitati dalla Caritas regionale e visto il tema ci sembrava opportuno, anzi noi ringraziamo loro per averci invitati Quindi l'idea dell'incontro facculture, espresso anche in una dimensione più da convegno e più da ascolto Insomma ci apparteneva anche questa dimensione e quindi abbiamo accettato con grande gioia questo invito Freschi freschi dal primo maggio, il concertone Guarda a Roma stavamo bene, oggi a Otranto invece ci tremavano le gambe No scherzo, insomma siamo stati bene anche a Roma perché il palco come diciamo sempre è il nostro habitat naturale Quindi lo calpestiamo ormai da diversi anni, siamo abituati alla strada, al furgone e arrivare a condividere emozioni insieme alla gente Ma vedere una platea immensa di pubblico? Sì, non è una platea che si vede tutti i giorni chiaramente È stato un misto fra emozione, concentrazione e devo dire anche professionalità perché siamo rimasti nel cuore di tutti Quindi il messaggio che state mandando alle nuove generazioni, ai ragazzi, qual è in realtà? Il messaggio che stiamo mandando è quello di crederci È quello che facciamo noi quotidianamente, lavoriamo credendo su un progetto da quando eravamo piccolini Il nostro progetto è Crefew e non è solo un progetto musicale, è proprio la nostra vita Il nostro sogno concreto ad occhi aperti Secondo te la pace è fondamentale tra i popoli? È importantissima, è gratuita, ti fa sentire bene con te stesso e con gli altri È un'unione di sensazioni E la musica, i vostri suoni, che ruolo hanno in tutto ciò? La parte musicale, sono una commistione di tutti questi incontri con artisti di altre nazioni Noi usiamo in studio il RIC, la Darbuga, il Bendir, che sono tutti strumenti che vengono da diverse parti del mondo Ovviamente partendo dalla nostra tradizione, unendo, creando la musica del non genere Luigi, i programmi futuri quali sono? Partiremo con il tour nazionale, 31 maggio Maria di Andrano Partirà questo tour che ci vedrà protagonisti nelle piazze d'Italia Saremo anche addirittura in Europa allo Ziggert Festival 11 agosto Che è il festival più grande di musica europea Insomma, lì anche a condividere con artisti di altre nazionalità il nostro suono e il nostro progetto Quindi siamo online con il nuovo videoclip Cuore e Confini Che è il nuovo simbolo che sta andando anche in radio proprio da queste settimane Quindi seguitici sui nostri canali multimediali www.crifiuweb.com Facebook e Twitter Cliccando Crifiu esce solo il gruppo musicale Nessun'altra omonimia che vi confonda Cliccando Cifiu esce solo il gruppo musicale Grazie